Com'è possibile questa cosa? Beh diciamo è ovvio che ci sono sempre delle parti che si distaccano dal materiale, quindi purtroppo è così. Contando così non riusciremo a vivere. Senza plastica si può, facciamo la scelta giusta. Ognuno di noi può fare la differenza evitando acquisti in imballaggi monouso. Scegliamo sfuso per l'ambiente e per la nostra salute.